Numero 1 Festival, questo è il nome della competizione canora iniziata a Nuoro due mesi fa che vedrà il suo epilogo finale sabato prossimo in una serata ospitata nell'auditorium dell'ITC SATA con inizio alle 20.30. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dagli organizzatori stasera nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Luca Mori, Francesco Costa, Sandro De Solis, Salvatore Tica che ricoprono diversi ruoli nella realizzazione dell'evento musicale. Il numero 1 Festival vedrà in lizza 14 finalisti, di età compresa tra i 14 e i 60 anni che in questi due mesi hanno partecipato alle selezioni esibendosi nel Borghetto Cafè. Inizialmente ogni concorrente ha presentato tre canzoni, cover di brani famosi dei più diversi generi musicali. In finale invece dovrà cantare un brano di sua scelta e uno assegnatogli dalla giuria. In questo caso si tratta di una canzone facente parte di celibri musical come Cats, Burlesque, Re Leone o I Miserabili. I brani in concorso saranno giudicati da una giuria qualificata preseduta da Simone Nardini, regista di musical di fama nazionale. Tra i componenti della giuria anche Letizia Marras e Marisa Mereu. La serata sarà presentata dalla cantante Tiziana Coro, vincitrice della corrida, e da Paolo Fele, Mister Sardegna 2012. Al vincitore andrà un premio di 1000 euro. Tra le qualità che i concorrenti dovranno mostrare figurano tecnica, interpretazione, e presenza scenica, professionalità e simpatia. Per gli spettatori c'è la possibilità di votare i cantanti accedendo alla pagina Facebook del numero uno festival. È un festival organizzato per conoscere nuove voci e premiare la migliore. Quindi abbiamo selezionato in due mesi un gruppo di ragazzi, abbiamo selezionato 14 finalisti che hanno gareggiato in questi due mesi, e sabato 2 marzo alle 20.30 gareggeranno per la serata finale e il vincitore vincerà 1000 euro.